Olio essenziali per l'igiene intima. Gli oli essenziali più adatti a curare candida, cistite e uretrite. Gli oli essenziali, grazie alle loro proprietà antibatteriche e antimicotiche, possono aiutarci a prevenire e curare candida, cistiti e uretriti. Vediamo quali sono gli oli essenziali più adatti per l'igiene intima e come utilizzarli. Olio essenziale di tea 3. L'olio essenziale di malaleuca o tea 3 è sicuramente quello più indicato per l'igiene intima femminile. Si tratta infatti di un olio essenziale con spiccate proprietà antifingine, antibatteriche e antinfiammatorie. L'olio essenziale di tea 3 si utilizza per prevenire e curare numerosi disturbi, infiammazioni e infezioni che interessano l'apparato riproduttivo, come l'eucorrea, infezioni da candida, cistite e uretrite. L'odore dell'olio essenziale di tea 3 non è tra i più gradevoli ma può essere migliorato aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di salvia o di lavanda. Olio essenziale di alloro, come l'olio essenziale di tea 3, anche l'olio essenziale di alloro ha spiccate proprietà antimicotiche utili per prevenire e combattere le infezioni causate dalla candida albicans. Si utilizza da solo o in sinergia con gli oli essenziali di palmarosa e basilico. Olio essenziale alloro, igiene intima, prodotti naturali faidate. Olio essenziale di camomilla. L'olio essenziale di camomilla si estrae dai fiori della matricaria recutita ed è indicato per lenire il prurito e le infiammazioni e per trattare le infezioni urinarie come la cistite. A differenza degli oli essenziali di tea 3 e di lavanda, quello di camomilla è decisamente costoso, il prezzo di questo olio essenziale è infatti di circa 20 euro per 5 millilitri di prodotto. Olio essenziale camomilla. Olio essenziale di aibero. L'olio essenziale di aibero si estrae in corrente di vapore dalle foglie di chimbo pogon giganteus. Tra gli oli essenziali non è certamente uno dei più conosciuti ma vanta proprietà antibatteriche e antimicotiche molto utili per l'igiene intima poiché la sua azione permette di prevenire e curare infezioni batteriche e causate da funghi. Per trattare la candidosi vaginale, l'olio essenziale di aibero può essere utilizzato da solo o in sinergia con altri oli essenziali come quello di tea 3, di alloro, di palmarosa e di geranio. Olio essenziale aibero. Come utilizzare gli oli essenziali per l'igiene intima? Gli oli essenziali sono composti organici volatili non solubili in acqua, si disperdano in sostanze oleose, oli e burri vegetali, ma anche latte e yogurt, e nei prodotti che contengono tensioattivi, come i detergenti. Per ottenere i benefici degli oli essenziali per l'igiene intima è sufficiente aggiungere uno o più oli essenziali al proprio detergente intimo. Scegliete un detergente intimo neutro e eco bio che non contenga profumazioni o altri oli essenziali e aggiungete da uno a tre oli essenziali. Basterà un millilitro di olio essenziale per ogni 100 millilitri di detergente intimo. Uno millilitro di olio essenziale corrisponde a circa 35 gocce.